Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con un nuovo video incredibilmente su The Division perché oggi volevo iniziare una nuova piccola serie che arriverà, non so, ogni quanto però che volevo portare avanti anche perché così riesco a giocare un pochino di più a The Division ed è una sorta di Hunger Games su The Division, ovvero noi ci buttiamo nella zona nera da soli proprio lasciati al nostro destino, non so cosa ho detto prima, lasciate al nostro destino perché io proprio ho paura di andare nella zona nera da solo, ci andremo da soli e dobbiamo sopravvivere ragazzi, dobbiamo sopravvivere da soli, quindi andiamo nella zona nera! Andiamo, entriamo, allora, oh, allora sono già tesissimo, sì però stai zittino, allora ah, quell'altro è già qualcuno, però loro, oh, vacca miserio, la, oh, no allora, dobbiamo, boh, non lo so, prenderli con calma, cosa ti devo dire? io questo lo cecchino proprio in fronte BAM! oh, buono, buono non sono per niente esperto del posto non so cosa mi aspetta, se questo mi prende però è finita qui sopravvive chi sopravvive di più e fin qui, diciamo che ci sta come idea, muori figlio di Troia ok, questo è andato ah, ma loro scappano, quindi anche loro scappano da me, è incredibile sono devastante ragazzi o forse no, infatti è ancora lì, immaginavo no, no, oh, c'è chi se mi prende questo siamo fottuti dai anche te col cecchino fratello orca boia no, 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 nasconditi, via cioè ragazzi, qui abbiamo un rischiato brutto niente, io questo qui non riesco a seccarlo ragazzi questo è un problema, questo è un problema di di finanze so che cazzo vuol dire, muori ok, perfetto minchia raga, ma questi sono fortissimi bam, bam cecchiniamo cecchiniamo questi oddio mio, no, 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 non cecchiniamo i piccioni perché io vedo un sacco di roba rossa ma mi sa che sono sotto di me bam, 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 bam ragazzi questo sta caricando l'arsenale aspetta che gli lancio un porceddu eccola uscite lo scoperto, figli di troia allora, me lo dovete puppare in profondità come fate col biscotto a colazione niente, questo non sono riuscito ad ammazzarlo lanciamogli la bella torrettina lì bam così uno lo secchiamo sicuro neanche forse oh, incredibile uno gliel'abbiamo fatta a buttarlo per terra perfetto, per il momento sopravviviamo noi poi magari sotto nei commenti consigliatemi come comportarmi nella zona nera ok, mi sto infiltrando non so dove cazzo sto andando ok, siamo in una nuova zona permesso? salve chi è? buonasera che te devo dire boh prego ok, dove no raga, questi sono fortissimi questi sono fortissimi via fottetevi voi e le vostre ruspe no, no, scappa, 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 scappa non si muore non si muore, non si muore non si muore abbiamo ancora molto da dare meglio che avarci dai marroni questo ok, almeno uno è andato uno è andato, abbiamo la certezza che uno è deceduto no raga, no raga, non si muore così non si muore non si muore ci abbiamo il cazzo duro ci abbiamo il cazzo durissimo noi secchiamolo, 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 secchiamolo prima che ci secchi lui dobbiamo seccarlo ciao cojons ok, ne manca uno raga ne manca uno e stiamo facendo un ottimo lavoro, devo dire no raga, sono tantissimi ne sono spuntati fuori degli altri sono nella merda non ce la farò mai porca troia oh agente non ostile, grazie grazie fratello grazie ehi, salteliamo insieme saltale anche te adesso mi ammazza mi spara un colpo in testa yamucin so perché l'ho detto scusa se mi permetto ma io vado a raccogliere la mia la mia la mia shit bro come on man dai uomo chi è che è in procinto di decedere poi io non vedo niente secondo me si è buggato qualcosa ragazzi no raga non gliela fa non gliela posso fare è impossibile non gliela faccio non ce la posso fare forse se lo faccio secco questo no no raga è impossibile sono morto sono morto Julius ti ho visto adesso scusa ti tiro su io fratello ce la facciamo ce la facciamo dai dai che questo muore cribbio no vieni qua Julius ti tiro io no deceduto proprio vieni qua Julius ti tiro io no no raga sono morto sono morto sono morto cribbio cazzo se erano troppi lo sapevo che dovevo scappare porca puttana sono morto che ti devo dire è mollo porca troia guarda quanta roba che ho perso ma adesso io posso andarla a riprendere posso andarla a riprendere questa roba era qui era questo no vabbè però saliamo immergiamoci qui nella shit ho già ti persi ecco lì però aspetta se noi restiamo qui raga raga ci proviamo ci proviamo ci proviamo ecco son morto son morto son morto guarda come cazzo muoio ho fatto davvero una una cosa orrenda davvero una cosa oscena no 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 il bombolone porco Giuda porco minchia raga sono tantissimi non ce la faremo mai non ce la faremo mai sono morto sono morto sono morto sono morto proviamo quel bombolone così noi no cazzo oh mi sono salvato mi sono salvato forse no siamo ancora vivi non so come e adesso moriamo perfetto porco Giuda porco Giuda raga finchè non vado a riprendere i miei cazzo di oggetti porca puttana perché perdo le chiavi e perdo i cazzo di putti ma è difficilissimo è difficilissimo da soli questo è il bello degli Hunger Games cazzarola se faccio una roba stealth tipo questa pigliamo tutto occhio raga eh perché qui ho fatto un numero si scappa si scappa ho ripreso tutte le mie cose ragazzi non è importante se ammazziamo qui ora dobbiamo cercare una zona di estrazione oh non c'è nessuno eh magari nel prossimo episodio andiamo nei sotterranei a farci fare il buco di culo là c'è sicuro al 100% che c'è qualcuno cioè quello è un cecchino no? no sto cazzo è un faro ma che cazzo pensi anche te cioè per forza è un cecchino c'è una luce è un cecchino no faro c'è una paura e infatti porco giuda urca boia che armata che mi veniva incontro merda oh c'è l'estrazione porco giuda in partenza tra 20 secondi non gliela farò mai mai forse sì forse sì forse no non è vero non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta vacca belarda raga non mi fa fare l'estrazione non lo so proviamo a cambiare zona di estrazione ma è sempre più rischioso così ce la faremo ce la faranno i nostri eroi a chiudere l'episodio in maniera quanto meno decente no perché perché l'estrazione è impossibile perché qualcuno mi deve dire perché l'estrazione è impossibile e questo suca 173 metri oh andiamo a prenderli che cazzo vuoi che ti dica ma c'è qualcun altro c'è arriva qualcun altro rifornimento che cazzo ti devo dire eccoli cristiano doni vacca questo tira la granata che va più in là di dios io lo sto mettendo in sicurezza poi non so che cazzo devo fare bene sono contento bisogna assolutamente di estrarre ho preso i fornimenti ho fatto il culo a tutti questi con il mio amico e poi non mi fa estrarre ma perché no guarda sto figlio di troia ma guarda te sto figlio di puttana guarda te questo mi vede ma fotiti il culo stronzo guarda quanta roba che avevo porco giuda porco fammi estrarre ma come perché scorta piena perché perché cosa vuol dire scorta piena e non mi fa estrarre cristo poi c'è sto coglione va a fanculo il primo episodio finisce così a cagare steve panda come cazzo ti chiami ci vediamo al prossimo episodio non mancate cosa cazzo vuol dire scorta qualcuno mi dice cosa cazzo vuol dire scorta piena e poi scopre di non poter estrarre perché la scorta alla base operativa è piena sono proprio un coglione